Oggi parliamo di APS, il nostro sistema di cambiata automatica. Con APS noi abbiamo due differenti tipologie di utilizzo. APS Field, dove abbiamo il cambio delle marce all'interno della stessa gamma, utile per le operazioni in campo, e APS Road, dove oltre al cambio delle marce abbiamo il cambio delle gambe in maniera automatica, utile per i trasferimenti su strada e per le operazioni di trasporto. Tutto questo premendo questo pulsante. Oltre a ciò, andando a selezionare il pulsante auto in maniera prolungata, noi possiamo andare ad attivare il nostro sistema stop and action, che ci consente di avere un cambio automatico a tutti gli effetti, dove agli stop, solamente premendo i freni e non la frizione, noi ci possiamo fermare e al rilascio dei freni, premendo l'acceleratore, il trattore riparte per la sua guida. Grazie e buon lavoro con Landini.